Il teatro della pandemia è una raccolta di tre miei copioni teatrali appena uscita dal editore La Mongolfiera. Parte da un testo scritto l'anno scorso, Il diario del virus, in cui faccio parlare il mostro, quello che ha provocato una strage nel mondo e anche in Italia. Mi immedesimo in questo misterioso essere dal genere liquido, non è chiaro se sia maschio, se sia femmina, non è chiaro sia singolare, se sia plurale, un'entità astratta ma pericolosissima e lo faccio perché ho una tradizione alle mie spalle drammaturgica di testi in cui impersonavo dei mostri, basti pensare a cronache venete. Ci vuole un certo coraggio perché metterlo in scena. Io già l'anno scorso ho cominciato in qualche occasione a recitare Il diario del virus perché c'è una serata inquietante e burrascosa. Ma con le dovute distinzioni di valore, venticinque secoli fa grande Eschilo non aveva esitato otto anni dopo Salamina a mettere in scena i persiani in cui si metteva dal punto di vista del nemico mostrando il fantasma di Dario e Salamina rappresentava per Atene, il pubblico ateniese, la grande minaccia che l'impero persiano ha rappresentato perché era intenzionato a distruggere la democrazia ateniese. Solo che questo mostro ha una sua filosofia diciamo leopardiana perché vorrebbe salvare l'umanità nel suo piccolo per togliere al dolore della vita. La vita non ha senso, è insignificante tanto vale finirla qua e scopre con sorpresa che invece la gente vuole vivere come delle cozze attaccate allo scoglio. E nel finale, a furia di stare dentro i polmoni di questa strana creatura che è l'uomo, il nostro mostro si affeziona, quasi prende le parti delle sue vittime e finisce quasi per sacrificarsi, per morire al posto loro, quasi un novello Cristo nel suo genere. Questo è un testo del Venti, scritto durante il lockdown e invece gli altri due lo precedono di parecchi anni perché il primo dei due è la collina di Euridice che risale addirittura al 97, ha vinto un importante premio, premio Pirandello, e poi è stato messo in scena dallo stabile Veneto l'anno dopo, quindi a 23 anni quasi. Ma mette in campo il lutto non più collettivo come il diario del virus, ma il lutto individuale. una famiglia benestante di un architetto padovano che ha una villa in collina a Teolo nasce una bambina e quindi vediamo man mano crescere questa creatura, non la vediamo mai, ma attraverso gli occhi ebri d'amore di questa coppia. E un giorno, a un certo punto, la coppia aspetta che questa ragazza venga in macchina col suo fidanzato e invece succede la tragedia, perché c'è il lutto. Mal elaborato in quanto la coppia invecchia precocemente, vediamo il disamore. È un grottesco perché questo lutto si manifesta in che modo? Che il fidanzato che è sopravvissuto all'incidente viene a tormentare questa coppia che oramai vive senza più per rapporti interni, con un rancore reciproco, classica sindrome del sopravvissuto. Viene a tormentarli perché sostiene che ogni notte questa ragazza lo visita e quindi vuole far partecipare i mancati suoceri di questa apparizione e diventa un grottesco, come una serata spiritica che funziona male. E l'ultimo testo, a cui sono molto legato personalmente, è del 2003, quindi ha 18 anni, ma è molto attuale. Anche qui c'è un lutto individuale, non più collettivo, come quello del virus, ma organizzato in modo bizzarro, perché il protagonista è un vecchio, un vecchio professore, anzi un archivista ai Frari, che conduce degli scavi ancora, anche se un anziano. E in una Venezia spettrale, solitaria, sembra quasi quella della quarantena che abbiamo vissuto lo scorso anno, in cima al ponte dell'Accademia, perché il titolo è Ponte all'Angelo, viene visitato da un angelo. Un angelo particolare però, perché è un angelo con le ali, tutto in regola, venuto giù perché cerca il giubileo. E questo angelo, che è un giovane, viene riconosciuto dal vecchio, perché era un suo antico compagno di liceo. Ed è rimasto intatto con i suoi appetiti, anche sessuali, e non sa di essere morto, cioè di essere un angelo. Quindi c'è un dialogo abbastanza sfasato tra l'educazione, l'autocontrollo, la razionalità del professore e questa vitalità fisiologica in tutti gli aspetti di questo angelo, che sembra quasi di carne e d'ossa. E avviene un trapasso, un transfert, in quanto a un certo punto c'è un cambio di consegne e l'angelo si libra delle ali attraverso un intervento chirurgico goffo del professore e il professore diventa anche lui un angelo. Come dico spesso prima dei miei monologhi in scena, buon turbamento.